Quasi un chilo e mezzo di marijuana ritrovato in casa pronto per essere smerciato. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 48enne di 5 frondi nel Regino che dopo un'approfondita perquisizione è stato trovato in possesso del consistente quantitativo di droga. Nello specifico i militari impegnati in attività di perlustrazione in alcune zone rurali del territorio hanno posto l'uomo a controllo a causa di sospetti atteggiamenti fino ad arrivare ad un capannone agricolo a disposizione dell'uomo nel quale è stata infatti trovata la marijuana. Sulla base degli elementi di prova finora raccolti, secondo l'accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Palmi, il 48enne è ritenuto verosimilmente l'esclusivo possessore dello stupefacente da destinare al successivo smercio in favore di assuntori. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.